E' dalle nove che sono fuori, prima portare la pizzetta a scuola, poi andare al supermercato, ora devo andare in farmacia e sinceramente non ce la faccio più, fanno male le gambe, ancora c'ho tutto da fare in casa perché comunque ho aperto tutti gli infissi e quindi ho lasciato tutto aperto, tutto da fare, l'unica cosa che questa mattina ho fatto è stato aggiustarmi, no niente, non aggiustarmi, ho sbagliato, lavare le tassine della colazione. E niente, ci aggiorniamo. Un cosino così, 28 euro, 28 ma così, che poi tanto ce l'ho nello zaino come arrivo a casa perché lo faccio vedere, che sono queste le goccine della B-Good, vitamina D, 25 euro, ma c'è manco 28, perché 28,90, 29 euro perché mi ha dato 1,10 euro di resto, ma scherziamo, ma beh, c'è il giorno che qua c'è gente che è già messa, e quella è pazza che parla col telefono, ti guardano come sei, quella è pazza che parla col telefono. Comunque, io opterei, visto che sto arrivando in casa, cambiarmi, mettermi il pigiamino e dormire. Invece di cambiarmi, mettermi in tuta e pulire, io opterei per dormire, parla Ninna. Guarda, credete, mi sono veramente stanca, stanca, stanca. Stanca, 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 davvero. E nulla, sono arrivata, adesso devo andare giù da mamma che prima sono stata al supermercato, quindi la spesa l'ho lasciata giù e poi mi ritiro a casa. A dopo, c'è vento oggi. Ciao. che caos mamma mia allora vi faccio vedere quello che ho comprato perché praticamente siccome abbiamo la scheda punti e come regali non volevo nulla e i punti che ho accumulato li ho soffriti come sconto per la spesa avevo raccimolato un 20 euro io oggi ho speso 22,50 con lo sconto del 20 con il buono sconto da 20 euro ho pagato quello 2,50 adesso vi faccio vedere che cosa ho comprato allora perdonatemi ma mi è arrivato un pacchetto che non ricordo di cosa si tratta poi andiamo a vederlo insieme allora va bene in questa busta piccola ho preso un po' di tovaglioni e di questo ne ho preso 3 litri e una bottiglia di olio e due pacchi di queste kinderfette al latte vabbè poi al forno il pane poi formaggio grattugiato del prosciutto cotto quattro pacchetti di disto l'altro latte che è qui e l'altro è giù e due pacchi di queste e niente 22,50 spesso solo 2,50 euro perché 20 euro erano di buoni dei punti lo sconto che avevamo vediamo spacchettiamo questo pacco mi tolgo pure il giubbining e vediamo perché ho una collaborazione da fare però non lo so se è quello oppure un pacco lo vediamo non mi ricordo probabilmente può essere pure un qualcosina che si era ritirata Anna non lo so però è il nome mio no no è proprio la collaborazione che dicevo io allora ecco qua la collaborazione di cui si tratta è la Kipao che ho già collaborato con loro mi ci sono trovata veramente benissimo è un'azienda spettacolare hanno questi prodotti che sono veramente la fine del mondo adesso li li apriamo insieme e che velocità comunque pure ah no si apriamo insieme guarda come si tratta non lo so come sempre ci hanno il anche con l'altra c'era il retino per lavarci diciamo il pannetto all'interno e mi credete che io questi qua li uso pure quando devo mettere devo lavare che ne so tipo i reggiseni li metto pure qua dentro li usufruisco pure allora il pannetto eccolo qua speriamo che mi vada al palo che ho io perché essere bello si allunga abbastanza ora prendo il palo e vediamo sono uno due tre quattro cinque e sei sono sei pannetti eccoli qua con l'elastico quindi perfetti allora vabbè giustamente si possono adattare sia lo spazzolone cioè se tu devi fare qualche parete allora aspettate che vado a prendere il palo che ho io allora questo è il palo che ho io vediamo un po' perfetto perfettissimo questo anche per lavare a terra perché quel materiale un pannetto non non ve lo so spiegare però secondo me per per lavare a terra è meravigliosamente stupendo poi ci mettiamo all'opera comunque voglio fare la prova se si adatta pure al palo perché questo essendo che è pure lungo allo spazzolone vediamo se si a voglia ecco vabbè per qua è già grande perché è più che altro per quello però alla fine ci va lo stesso per fare che ne so vedete è più comodo da usare su qualche parete diciamo perché quello lì essendo bello lungo è ideale a terra questo qua col fatto che si adatta pure qui per fare che ne so armati cucina è molto più indicato quindi soddisfatta al 100% anzi al 1000x1000 perché con quelli dell'altra volta quelli verdi che vi ho fatto vedere nel video precedente stupendi raccolgono raccolgono tanto di quella cioè tu prima ci hai passato la scopa elettrica ma se ci passi dopo con quello cattura ancora tantissime cose quindi rimani anche un po' perplesso dici ma io l'ora che ho aspirato fino adesso sono veramente ottimi e questa agenda veramente della Kippau è veramente straordinaria 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 veramente il top della qualità è vero è proprio un top della qualità niente mi metto a posto la spesa perché non vedevo l'ora di spacchettare questo parchetto per curiosità mi metto a posto tutte le cosine poi ci aggiorniamo più tardi perché metterò in uso il pannetto cambiata non fate caso i capelli ci sono molti devo in settimana mi devo rifare il colore perché si nota già la righetta mannaggia sti capelli niente si sono fatti le 10 59 c'è proprio un'ora di tempo per mettermi all'opera perché poi a mezzogiorno devo andare a prendere a Chiara l'asilo che oggi mangiamo dove mia mamma perché gli ha detto che aveva delle gli faceva la lasagna quindi mangiamo da lei e niente quindi mi devo spicciare ci aggiorniamo dopo buongiorno sono le 7 e mezza di mattina sono già andata al bar a prendere i cornettini perdonatemi ieri poi non sono riuscita a registrare più infatti non ho nemmeno passato l'alcol ho lo straccetto per terra vedo di farlo oggi così posso mandare il video poi non vi ho fatto vedere nemmeno più le cosine che avevo comprato per le medicine diciamo allora la cura che deve fare Samuele quella per tre mesi sarebbe questa qua che va tenuta in frigo Bacto Bliss è uno streptococcus salivarius K12 sono delle caramelline che vanno sciolte in bocca e quindi prima di andare a dormire gliela do se la giuccia e gli si scioglie questa va fatta tre mesi perché comunque previene una cosa riguardante le tansillite può evitare di fargli venire rotite tutte queste questionne così perché lui ne soffre comunque la cura che stanno facendo è questa qua vedete che accendo questa luce senza che me le porto di là allora lo spray nasale entrambi anche lo sciroppino questo della Zolik per tosse sia secca che grassa entrambi anche loro poi questo è uno spray per la gola per Samuele Clia Steam Clia Steam è chiara invece queste qua le goccine 30 euro in toscatolina Minion che ci stanno latoferrina vitamina E vitamina C vitamina D e zinco c'è praticamente con questi quattro no questo no ce lo avevo già goccine spray sciroppo e quelle pastiglie io ho lasciato 80 euro così sta bene così io ho lasciato 80 euro 80 e le risate che ci siamo risate però voglio dire che ci siamo fatti che abbiamo detto meno male che al controllo che hanno fatto diciamo dalla pediatra sì sì sono in fase di guarigione io ho spesso 80 euro e saranno malati oh mio dio cioè comunque non si può nemmeno più cadere malati niente sono le sette e mezza devo svegliare Samuele perché comunque deve andare a scuola chiara sta dormendo ma oggi lei essendo sabato non ricordo se ve l'ho detto quindi buon sabato buon fine settimana lei è oggi a casa Anna si sta già sistemando che lei adesso va ciao e ora sveglio Samuele che ieri gli è caduto il dentino e ora gli ho messo i soldini sotto il cusino quindi me lo posso svegliare e gli dico è passata la fatina e niente ci muoviamo allora mi trovo mi trovo qua in bagno con il pannetto della Kipau e ho passato l'aspirapolvere in camera dei ragazzi adesso vado a passarci questo qua un pochettino con con l'alcol poi da lunedì che sono tutti a scuola sperando che la giornata sia bella perché oggi è molto piovosa posso proprio spalancare tutte le finestre e mi metto a pulire molto più approfondito quindi oggi andremo giustamente per testarlo andremo ad utilizzarlo con l'alcol e vediamo perché adesso è quel bel bianco candido andiamo a vedere un pochettino come si trasformerà questo pannetto vi ricordo che questa azienda è straordinaria e potete acquistare i loro prodotti su Amazon e vi lascio giù il link tutto quanto tutto 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 troverete anche comunque di tutto e di più io giù vi lascio il link diretto su cioè entrate proprio nella pagina del loro link su Amazon e potete scegliere quello che più vi interessa dategli un'occhiata perché è un'azienda molto 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 valida allora non mi perdo in chiacchiere e andiamo a passare questo pannetto ho messo l'alcol sul pannetto adesso andiamo a passarlo in camera un'occhiata e prima ho passato l'aspirapolvere anche questo panno super approvato perché oltre l'aspirapolvere noteremo che a terra rimane sempre un qualcosina di sporco e questo va a semplificarci tantissimo le pulizie ce le facilita proprio alla grande vedete quanto raccolto solo in una camera ecco qua pulizia reale di questa mattina ho passato prima l'aspirapolvere e poi il pannetto della kippau giù troverete tutto quanto lo ripeto nuovamente si acquista su amazon vi lascio tutto quanto in info box andate andate a dare un'acchiata e niente qualità al 100% veramente perché vedete dopo aver passato l'aspirapolvere ho passato questo pannetto asciutto solo alcol e ha raccolto quel eccesso che l'aspirapolvere non ha acchiappato o ha acchiappato lui e che dire straordinario allora vi ripeto che giù troverete tutto 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 ci aggiorniamo con un prossimo video e riparleremo anche nel prossimo video faremo altri utilizzi con questo pannetto ve li mostrerò in un prossimo video vi auguro una buona una buona giornata un buon fine settimana ci aggiorniamo con un prossimo video e un bacio a tutti quanti e grazie i vecchi e nuovi amici che si sono aggiunti al mio canale ce l'ho bianco come se dovesse nevitare invece sta piovendo non si vedono nemmeno le montagne là dietro poi ho bianco 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 mamma mia è brutto e niente oggi la giornata è così piovosa invernale chiediamo che non ci sono i riscaldamenti accessi e oggi riscaldamenti non si spegneranno proprio oggi è così niente vi saluto vi mando un bacio mi raccomando andate a visitare la il sito della che paolo che troverete sempre giù e tutte le informazioni le troverete giù ripeto che un sito affitto il loro sito e amazon quindi c'entrerete proprio nel negozio amazon e sceglierete quello che più vi piace e più vi interessa dire di vi è utile più che altro e niente io vi saluto vi abbraccio forte forte grazie ai nuovi iscritti e grazie sempre ai chi è vecchio un bacio grande spero che vi sia stata di motivazione e di compagnia soprattutto al prossimo video ciao grazie a tutti